Ancor più festificanti MTIers, con questo video si va dritto per dritto su Prime Video ad indagare come segugi serie e film che meritano in questo gennaio 2022. Preparate i vostri nasi, che si parte! Continuo a partire con la lingua a massima velocità per potervi dare più informazioni in meno tempo così che la vostra attenzione non cali e la mia voce striglia vi spacca i timpani. Oh siù mi manca già il fiato, calma. Quindi non prendiamo altro tempo e partiamo subito con un gennaio bello carico di sorprese da Prime Video ma prima devo cambiarmi le batterie... Il primo gennaio di Prime Video è una vera scarica di fuochi artificiali con una serie di film imperdibili che si aggiungono alla piattaforma. Tra queste troviamo Arancia Meccanica, Barry Lyndon, Ace Wide Shut, Blade Runner, la leggenda di Beowulf, la trilogia dello Hobbit, Limitless, Romanzo Criminale, Viper Vendetta e tutta la saga di Twilight. Una bella serie di film per occupare le nostre giornate mentre siamo in ferie a goderci un po' di relax. Dal 3 gennaio poi si continua con Time Is Up, un film italiano con Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Storia ovviamente d'amore ma funestata da un incidente con perdita di memoria che incasinerà la vita di Vivienne, studentessa che sogna di andare a studiare in USA, Eroi, un nuotatore prestante ma parecchio problematico con un tormentato passato. Il trailer non mi ha particolarmente incuriosito ma credo che i giovinastri che seguono questo vecchietto sul tubo potrebbero apprezzarlo. Proseguo con The Tender Bar, previsto per il 7 di gennaio. Film diretto da George Clooney e con Ben Affleck che dirige questo bar, Dalle Grandi Speranze, titolo del libro da cui è tratta la storia. Un giovane ragazzo sostenuto dalla madre che prova di dargli un futuro migliore del suo, tenta di trovare la sua strada nella vita. Un film che pare molto impegnato e che vedrà già il mio tasto play premuto. In totale esclusiva Prime arriva il 14 gennaio un nuovo capitolo di Hotel Transisvania, fortunatissima serie d'animazione che ha letteralmente riempito le sale di bambini in attesa. In questo uno scambio mostruoso il dottor Van Helsing inventa un sistema per far diventare umani, mostri e viceversa. Quindi vedremo un Dracula umano e un Jonathan mostruoso che tentano di trovare una via per ritornare rispettivamente quello che sono prima che la trasformazione si stabilizzi. Forse chiedere un quarto film da questa saga è un po' troppo, ma sicuramente ai bambini non dispiacerà di certo. Quindi piazzateli davanti a Prime. Finalmente una serie italiana, Monterossi, in uscita il 17 gennaio. Insomma, parliamone. La trama vede un autore delle tv che una notte viene sparato, nel senso che apre proprio la porta ad uno che gli suona incappucciato e con una pistola. Si salva per miracolo e poi prende due suoi giovani stagisti per aiutarlo a capire chi lo voglia ucciso. Il trailer è un misto di recitazione piatta e inquadrature da sopopera, il tutto degno degli occhi del cuore, volume 2. Insomma, questa storia tratta dai romanzi di Alessandro Rebecchi mi ha preso così tanto che vi chiedo di dirmi che cosa ne pensate dei libri, perché questa serie è probabilmente troppo per le mie coronarie. Ma quando si dice che le belle cose non arrivano mai sole, ecco palesarsi pure As We See It in Arrivo il 21 gennaio, serie di 8 episodi dedicate alle vicende di tre coinquilini poco più che ventenni che vivono tutti al limite con il proprio autismo. Verranno quindi affrontati argomenti importanti e profondi della psiche umana ed in interazione fra il singolo e la società. Ma il trailer, boh, spero che sia solo quello perché io Play vorrei provare a darlo. Fatemi sapere anche voi. Adesso proviamo con un film italiano tutto al femminile, Tre sorelle, previsto il 27 di gennaio. Narra le vicende di una donna che scopre che il marito ha una relazione con un suo assistente. La sorella invece viene lasciata perché tradisce il marito. Si aggiunge anche la sorella più piccola delle due in questo viaggio nella loro villa nel Circeo. Alle tre si aggiunge pure la giovane massaggiatrice della prima, probabilmente perché dovevano fare numero. Visto che la vera storia scatta quando si presenta a casa loro, per un saluto, il nuovo vicino Antonio. Le premesse sono probabilmente la cosa più antifeminista che potesse venire in mente a qualcuno, ma la mia speranza è che abbia capito malissimo io e che sia un film totalmente diverso. Ma forse sono io anche che pretendo troppo ultimamente dalle produzioni. Infatti questo The Legend of Vox Machina in arrivo il 28 di gennaio mi ispira parecchio. Si tratta di animazione legata al gioco di ruolo fantasy critical role e questa serie segura le avventure dei disadattati Vox Machina che per ripagare i loro debiti in crescita esponenziale finiranno per cercare di salvare il regno di Exandria. Storia per adulti piena di sangue e cattiverie in uno stile vicino probabilmente a quello di Invincible. Il 31 gennaio invece Prime Video ci regala tutte le 10 stagioni di Stargate SG-1, il film con Kurt Russell del 94 e gli altri due film derivati dalla serie con Richard Dean Anderson. Nulla invece per quanto riguarda le due serie spin-off Atlantis e Universe. Insomma un buon modo per recuperare questa saga fantasy e fantascientifica. Eccoci giunti alla fine del video con un'offerta mensile di Prime di tutto rispetto e che potrà riempire ore e ore di visione. Voi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Commentate e seguitemi nelle mie disavventure youtubiche perché il nuovo anno è alle porte e... No, niente, il nuovo anno è alle porte. Al prossimo video, compagnia degli MTIers. Ciao! No, niente, il nuovo anno è...